Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. C'è stato purtroppo un altro grave incidente domestico in provincia di Arezzo. Dopo quello di alcuni giorni fa alla fratta, adesso a Castiglion Fiorentino, un uomo di 63 anni, è stato investito dal ritorno di fiamma del fornello che stava accendendo. L'uomo ha riportato ustioni sul 30% del corpo. È comunque riuscito ad arrivare in autonomia all'ospedale San Donato di Arezzo, ma dopo una prima valutazione è stato trasferito al centro grandi ustionati di Pisa. E di pronto soccorso della Toscana in questi ultimi giorni sono presi d'assalto a colpa dell'Australiana. L'influenza che sta mettendo a letto migliaia di toscani anche ad Arezzo. La situazione è piuttosto critica, ma comunque adesso sarebbe sotto controllo. L'Australiana sta mettendo a letto migliaia di italiani a dura prova i pronto soccorso degli ospedali. È arrivata in anticipo l'influenza stagionale rispetto alle previsioni degli esperti e conforme sia lievi che acute. Secondo i dati della rete di sorveglianza di InfluNet dell'Istituto Superiore di Sanità, nella settimana dal 28 al 4 dicembre sarebbero ben 943 mila gli italiani contagiati. Gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati soprattutto nei fine settimana, quando i medici di famiglia e le case della salute sono irreperibili. Ad Arezzo ci conferma il direttore della medicina di chirurgia d'urgenza dell'ospedale San Donato, Maurizio Zanobetti, si registra un 30% di accessi in più, su un totale che rimane comunque già di per sé molto alto, circa 220 accessi al giorno. I sintomi principali sono febbre, tosse, insufficienza respiratoria, afferma Zanobetti, sintomi comuni anche al Covid, che ha avuto un lieve incremento, ma non tale da giustificare il 30% della sintomatologia. Quindi è la sindrome influenzale a causare il maggior accesso ai pronto soccorso. Nei pazienti fragili, prosegue il dottore con diverse patologie, e negli anziani non vaccinati, la sindrome influenzale determina spesso la necessità di alcuni giorni di ricovero, e questo si ripercuote sulla mancanza di posti letto a disposizione. Sebbene, conclude Zanobetti, l'ospedale San Donato di Arezzo abbia un'ottima organizzazione per contrastare il fenomeno del boarding, cioè l'attesa per un posto letto. Nuova allerta a meteo fino alle 24 di domani con codice giallo per rischio idrogeologico temporale, neve e ghiaccio emessa dalla Sala Operativa Unificata della Protezione Civile. Dunque domani, 11 dicembre, nella notte e al mattino, sono previste precipitazioni anche di carattere di rovescio breve temporale. Nella pomeriggio tendenza all'ammiglioramento. Sempre domani prevista anche deboli nevicati sui settori appenninici e occasionalmente sul Prato Magno, con quota neve in calo dal pomeriggio fino a 700-800 metri. Nel corso della serata di domenica, poi temperature inferiori a zero sulle zone appenniniche, dunque con possibile formazione di ghiaccio. E adesso torniamo in città, una città invasa dai turisti, tanto da far prendere un'ulteriore decisione al comandante della Polizia Municipale, Aldo Poponcini, ovvero quella di chiudere un'altra parte della città. Oltre a Guido Monaco e Piazza San Francesco, anche Via Cavour sarà interdetta al traffico, tranne che per i residenti e altre eccezioni, nei fine settimana di dicembre. La decisione è del comandante della Polizia Municipale di Arezzo, Aldo Poponcini, ed è dettata dall'incredibile afflusso di turisti in questi fine settimana di dicembre per la città del Natale. Un provvedimento arrivato nel giro di poche ore per snellire traffico e code e che scatta ogni sabato e domenica dalle 14 alle 20. È dunque istituito il divieto di transito dei veicoli in via Cavour e ancora in via Guido Monaco, nel tratto compreso tra via Garibaldi e Piazza San Francesco e la stessa Piazza San Francesco. Nelle stesse giornate e fasce orarie c'è anche il divieto di accesso di ogni veicolo da Piazza Guido Monaco in direzione del tratto di via Guido Monaco, compreso tra la piazza e via Garibaldi, ad eccezione dei veicoli diretti al parcheggio di Piazza del Popolo. Le altre eccezioni riguardano i veicoli di polizia, dei mezzi di soccorso ed emergenza, i servizi per le persone diversamente abili, i taxi e i residenti e i veicoli ad esclusiva propulsione elettrica. Una città che però ha le prime luci dell'alba e dopo il tramonto resta ancora al buio. La riduzione dell'accensione dell'illuminazione pubblica aveva creato numerose polemiche nelle scorse settimane, tanto che la Giunta aveva deciso di ripristinare l'orario regolare, ma ancora l'accensione dell'ampione non è tornata a fascia oraria completa. Sui social dunque è ripartita la protesta. In merito è intervenuto anche il gruppo consigliare formato da Marco Donati e Valentina Sileno Scelguarezzo. Leggiamo con un po' di stupore le dichiarazioni dell'assessore Sacchetti in merito ai ritardi che si stanno verificando nel ripristino dell'illuminazione pubblica, hanno dichiarato. L'assessore ci dice che non sa il giorno preciso con il quale la città sarà nuovamente illuminata nel tardo pomeriggio di prima mattina. Il nostro gruppo ritiene che in base allo schema di convenzione con il concessionario che gestisce il servizio e i tempi debbano essere certi e che la Giunta non si possa più nascondere dietro problemi tecnici. Parliamo adesso di politica. CGL e Gui l'hanno definito socialmente iniqua la legge di bilancio del governo. Per questo hanno indetto lo sciopero generale di 24 ore il 16 dicembre dei servizi pubblici e privati. Ad Arezzo poi alle 16.30 anche una manifestazione in piazza Sant'Agostino, una fiaccolata e poi gli interventi dei segretari provinciali Cisle, Gui l'Alessandro Tracchi e Cesare Farinelli dei dirigenti e dei delegati sindacali. Ultima pagina per andare a conoscere la sfida di tre imprenditori e aretini che hanno deciso di riaprire un bar storico. Aprire una nuova attività, insomma dopo due anni di pandemia, questo tra l'altro è anche un'attività abbastanza storica per Arezzo, ma soprattutto con il problema del caro bollette, il caro energia e pure da rete lavoro. Perché questa scelta? Perché comunque è una scelta che mi ha portato diciamo il cuore, perché io in questa zona ci sono nato, cresciuto e ho visto l'evoluzione di questo locale, ci ho visto un potenziale anche secondo me da sfruttare con il discorso che poi è turistico, diciamo deve, è un'attività che la faremo lavorare tutto il giorno, dalla mattina alle colazioni, ai pranzi, fino alla sera apericena, dopocena, qualche serata dedicata un po' alla movida, magari con le dovute accortezze però faremo diciamo un tutto tondo. Questo è un locale che appunto è proprio ai piedi del parcheggio Pietri, quindi ai piedi anche della città murata, quindi sperate proprio nell'afflusso anche dei turisti. Proprio che qui ci ho visto diciamo il potenziale perché comunque vada, diciamo che questo è per me il porto d'Arezzo, perché poi tutta la città storica, culturale parte tutto da qui e quindi il turista staziona qui, cioè parcheggia e poi va, quindi ci ho visto anche una soluzione anche per il turista, dare anche un'accoglienza come la prima accoglienza che possiamo dare per quanto riguarda la ristorazione o il bagno, quello che uno ha bisogno insomma. Quante persone avrete al lavoro? Attualmente abbiamo diciamo ipotizzato cinque persone, più un jolly che magari nelle serate più impegnative ci può dare una mano, ma la chicca che praticamente sarà del locale, siccome dentro non abbiamo la possibilità di fare cucina, è un'ape che diciamo con la cucina dedicata che sarà attrezzata per fare hamburgeria e faremo anche serate dedicate con hamburger e con magari chef che vengono a fare le loro proposte e da presentare diciamo la clientela. Il caro energia non vi spaventa? Ci spaventa e come, però ho sempre provato a osare per provare e spero che anche questa attività possa funzionare al meglio diciamo. L'arte luminosa di Carlo Bernardini a cura di Fabio Migliorati illumina lo spazio sugar a Palazzo Lombardi con Shining Matrix. È un artista che da trent'anni usa la fibra ottica e ne fa il mezzo per eccellenza, il mezzo di lezione per parlare di contemporaneo oggi, ma anche in questo caso di rapporto con l'antico oggi qui presso Palazzo Lombardi, presso sugar. L'arte luminosa di Carlo Bernardini a cura di Fabio Migliorati illumina Palazzo Lombardi. È una specie di cortocircuito mentale, però il lavoro di Bernardini fa anche questo, ci fa vedere cose che non ci sono e normalmente non consideriamo. Il suo lavoro circonda, circoscrive il nulla, il niente e lo fa esistere di fronte a noi attraverso poetiche dei poliedri illuminati, attraverso geometrie non euclidee, attraverso questo tipo di rapporto. In questi spazi, oltre ai mosaici romani scoperti anni fa, che custodiscono la memoria più recente di importanti mostre d'arte contemporanea, adesso trovano spazio anche queste sculture, veri e propri disegni di luce. I miei interventi visivi di luce tendono a trasformare lo spazio per creare delle dimensioni invisibili, più che altro è un disegno nello spazio che cerca di plasmare il vuoto dello spazio per introdurre lo spettatore all'interno di un'altra dimensione, una dimensione invisibile, cambiando le coordinate percettive del luogo e quindi trasportandolo all'interno di coordinate differenti che sono quelle di un disegno nello spazio. Anche lei dà sezione di Arezzo alle sue guardie zoofile ieri sera la presentazione nel corso di una cena di beneficenza. Bisogna seguire un corso, bisogna sostenere un esame, dopodiché una volta passato l'esame si richiede in prefettura il decreto da guardia zoofile. È stato durante la cena rigorosamente vegana di beneficenza organizzata da Leida, Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente di Arezzo, che sono state presentate le nuove guardie zoofile, otto in tutto quelle formate nell'aretino. Siamo già otto che hanno passato il corso e a breve iniziamo un ulteriore corso che lo facciamo qui ad Arezzo. Ci sono già altri dieci iscritti e quindi aspettiamo anche altre persone che se sono interessate ad iscriversi al corso ben volentieri, quindi devono andare sul sito Leida oppure su Facebook, scusate, Leida Trattino Arezzo e lì ci potete contattare tranquillamente e noi vi diamo tutte le risposte del caso. Il corso non è difficile se si studia e se si entra nel mood, la vita della guardia zoofile è una vita di studio, è una vita nella quale ci si informa in continuazione perché le leggi cambiano, perché ci sono sempre nuove sentenze, ci sono sempre nuovi fatti e quindi bisogna comunque capire che bisogna studiare, non bisogna mai rimanere indietro e bisogna stare al passo con le nuove leggi e i nuovi regolamenti, quindi non è difficile, bisogna avere la passione, quando uno ha la passione non è mai difficile. E non si fermano nemmeno le associazioni della sezione a retina dell'EMPA. Il mese di dicembre spiegano è ricco di iniziative che auspichiamo vedano oltre all'impegno di noi volontari anche la partecipazione della città. Sostenere i più deboli da sempre è il nostro obiettivo, per cui quest'anno abbiamo pensato di legarci simbolicamente ad un gemellaggio con un'altra realtà che ci sta molto a cuore, l'associazione Il Casolino. L'appuntamento è domenica 11 dicembre alle 10 in piazza Sai Jacopo. Passiamo adesso alla pagina dello sport, al calcio domani l'Arezzo di nuovo in scena il comunale dopo la vittoria della scorsa domenica contro la capolista pianese. Arriva infatti il tau calcio alto pascio al quart'ultimo posto in classifica con 14 punti conquistati. Sentiamo adesso le parole di Mister Indiani nel corso della consueta conferenza stampa. Mister Indiani, come lei ha sottolineato giustamente domenica dopo la bella vittoria contro la capolista, l'Arezzo deve dare continuità e ha davanti un avversario certamente non semplice. Come tutti, questo è un girone in cui non ci sono partite scontate assolutamente, meno che mai sarà quella di domani. Poi è chiaro, domani forse, spero di non, ma è probabile ci sia anche un campo pesante, sicuramente non ci aiuterà, però se vogliamo raggiungere l'obiettivo che vogliamo raggiungere non dobbiamo stare a guardare queste cose, ma fare un bel filotto dopo la vittoria di fianca stagnaia. Domani è la prima e per farlo per forza bisogna raggiungere, per forza, per forza no, con qualità, con tutto quello che abbiamo, raggiungere tre punti anche domani. Allo stato di salute della squadra si aggiunge la bella prestazione di Coppa, dove hanno trovato spazio tanti giovani che non hanno possibilità di mettersi in evidenza, perché insomma la rosa è abbastanza ampia. No, no, ma hanno giordito un tre, evidentemente la rosa non era abbastanza ampia mercoledì, ma poi l'abbiamo fatto volontariamente, non è che l'abbiamo fatto iniziare, perché abbiamo visto che sono bravi e possono diventare utili, e il campo credo ci abbia dato dimostrazione in questo senso. Naturalmente considerando anche chi è andato a un campo degli altri, li hanno aiutati nel modo giusto, è venuta fuori una buona cosa. In virtù del fatto che probabilmente ci sarà, come lei ha sottolineato, il campo pesante, ha in mente qualche modifica rispetto a domenica scorsa? No, no, se facciamo qualche modifica la facciamo, ma non perché c'è il campo pesante, per altri motivi, per motivi tecnotattici, per motivi di squadra, di disponibilità, ma non perché c'è il campo pesante. Questo è un momento abbastanza favorevole, ma va sfruttato l'entusiasmo di quello che abbiamo visto domenica e in Coppa. Certo, quello che ho detto a favorino, lo dissi domenica subito e continuo a ridirlo. Se non facciamo un filotto, la vittoria di domenica, man mano che le giornate di un'ampionata andranno avanti, perderà di valore. Hai dimostrato in più di una circostanza di non essere per niente in pensiero per l'attacco, che forse è l'unica cosa che funziona un po' meno in questa squadra. Ma sarei l'ultimo a stupirmi anche qui se partissimo e faccio due o tre gol a partire. Sarei l'ultimo a stupirmi perché i giocatori ci sono, il valore tecnico di ognuno di loro c'è, a volte è chiaro, se gioia nell'Arezzo paradossalmente sembra più facile. Diceva, gioia in una grossa squadra, poi fa più gol. Invece non è così, non è così perché gli avversari sicuramente lo spazio non te lo lasciano e molto probabilmente per alcuni di nostri giocatori forse è proprio questo il punto. E dopo il Tg anche questa sera torna come tutti i venerdì e sabato all'appuntamento con Gustar, la rubrica cura di Edoardo Carrai dedicata alle eccellenze gastronomiche del nostro territorio. Il protagonista dello spazio è ancora una volta il macellaio Alessandro Rossi. Questa sera è tutto, io vi auguro una buona serata, arrivederci. Alessandro Rossi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.